Iniziamo subito con il dire che non è certo una novità quella di un sisma con epicentro città di Andri, anche se negli ultimi anni il territorio della sesta provincia pugliese è stato caratterizzato da diversi terremoti di magnitudo relativamente basse. Prendiamo in considerazione solo i movimenti tellurici con magnitudo superiore a 2 nella scala Richter. Nell'area nord di Bari sono esattamente 72 i fenomeni registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia superiori a 2 di magnitudo dal 1985 in poi. Il più forte in realtà è anche il più recente, cioè 3.7 di magnitudo con epicentro il territorio di Barletta al confine con Andria avvenuto 8 mesi fa ed esattamente il 21 maggio scorso, il 22 dicembre 2009 con magnitudo 3.4 epicentro Ruvo di Puglia ed a seguire magnitudo 3.0 a Spinazzola nell'ormai lontano 10 aprile 2005. Ancora Barletta e la costa barlettana nello specifico in due altri episodi che hanno superato i tre di magnitudo. Il primo il 9 settembre del 2000 ed il secondo il 29 maggio del 1997. C'è da specificare che la Batte e più in generale la Puglia hanno tutte le tipologie di pericolosità per rischio sismico. Proprio il nord barese è diviso in due tra zona 2 con forti terremoti possibili e zona 3, forti terremoti meno probabili. Così come la classificazione della protezione civile nazionale aggiornata a gennaio 2019. Alla zona 2 appartengono l'area murgiana con Canusa, Minervino e Spinazzola e l'area Ufantina con San Fertinando, Margherita e Trinitapoli. Zona 2 anche per il territorio di Barletta. Per la città di Andria, Bisceglie ma anche Trani invece il rischio sismico è classificato in zona 3. Tornando più nello specifico al territorio di Andria, poi con Epicentro nella città federiciana si sono registrate altre scosse il 7 marzo 2014 con magnitudo 2.3, l'8 giugno 2005 con magnitudo 2.6 due scosse ravvicinate nel 2002, rispettivamente l'8 e il 9 dicembre di magnitudo 2.7 e 2.8 ma anche il 27 ottobre 2001 con magnitudo sempre 2.7 e poi ancora più indietro nel tempo sino ad arrivare al 15 dicembre 1987 con magnitudo 2.4. In questi elenchi chiaramente non sono considerati i movimenti tellurici verificatesi in altre zone vicinore e che sono stati ugualmente avvertiti dalla popolazione.